C'è sto nipote che vive con la sua amata nonnina e tutte le volte che sta in comitiva parla sempre della nonna perché la adora proprio, gli vuole un sacco bene a sua nonna e oggi la nonna fa 95 anni quindi lui parlando col suo miglior amico gli dice ma lo sai che oggi mi nonna fa 95 anni e il miglior amico come 95 anni? Ma davvero mi stai dire? Ammazza, 95 anni e come sta a 95 anni? E come sta mi nonna a 95 anni? Sta una favola, tu pensa che mi nonna ha 95 anni ma non si sente proprio non c'è proprio verso di fargli li sentì, non se li sente, non sa sente proprio l'età che ha Sì vabbè ma che stai dire? Ma io mica ce credo a sta cosa Allora dai andiamo a casa di mia nonna che oggi è il compleanno suo così almeno ne approfittiamo per fargli gli auguri insieme E dai dai andiamo da tu nonna così mi fai vedere come non si sente l'età che c'ha E dai andiamo insomma vanno a casa dalla nonna entrano in soggiorno raggiungono la nonna nella sua stanza E la vedono che fa l'uncinetto sulla sua sedia a dondolo Allora il nipote gli fa nonna e la nonna zitta Allora il nipote continua nonna e la nonna zitta Allora il nipote continua ancora nonna e la nonna zitta Allora il nipote si gira verso l'amico e gli fa Hai visto? 95 anni e non sentirli Non sentire? Allora il nipote si è fredda Ciao! Um, come se sentire? or c'è? Il nipote è tutto da Allora il nipote è percogliere